Buongiorno ragazzi e ragazzi Oggi siamo ritornati qui con un nuovo video Questo video si tratta Blind Bag Di una Super Blind Bag Di Dynamics Abbiamo deciso di comprare tante bustine di queste Per fare una Super Blind Bag Abbiamo speso un pochino Però non fa niente perché volevamo Abbiamo comprato 16 pacchetti Però non sappiamo se ci escono tutti quanti Ne abbiamo aperti due Sia questo che questo Non mi ricordo i nomi Allora Abbiamo avuto Trisaur Crystal e Berry Crystal Questo è Berry Crystal E questo è Trisaur Crystal A noi piacciono tanto Vogliamo fare tutta la collezione Aspetta Tutta la collezione E quindi abbiamo preso 16 bustine Se siamo fortunati le avremo tutte Altrimenti no Perché la collezione fa parte di 16 bustine Le indovineremo tutte Non ci usciranno doppioni Allora saremo fortunati Teniamo bene All'interno All'interno esce un palaspezzo Un palaspezzo Una spazzolina Un buclet Un palaspezzo Un palaspezzo A costa 3,50 euro Il consigliato di 3 anni in su È di Dynamics Si chiamano Il regno dei cuccioli Per la spazz Allora Apriamone Due a due No 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 Troppo bello questa No Però questa è troppo benedosa No Guardate questa Lalla guarda questa Musica Grazie a tutti. 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 Quante ce ne sono scelte? Così sono tutti i booklet. Vediamo un po'. Abbiamo Summer in versione non crystal, sì ce l'abbiamo, Summer. Abbiamo Lily in versione normale. Sì, abbiamo anche Lily in crystal, abbiamo 3 cap crystal, abbiamo 3 cap crystal, ce l'abbiamo? 3 cap crystal, ce l'abbiamo. Sultano ossia questo che questo poi c'è Drimi Drimi la versione è pure di questo pure di questo per fortuna tutti e due poi Barry abbiamo versione normale e versione crystal poi Pumping abbiamo versione normale versione crystal Summer già lo detta abbiamo tutto queste sono Trisaur sia versione crystal sia versione normale abbiamo tutti i booklets molto molto carini queste sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 va bene ne mancheranno 13 va bene ragazzi qualcuna ne manca magari per terra non ce ne siamo forse allora allora gli animaletti sono 1 2 3 4 5 6 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 ragazzi ragazzi ma vi rendete conto ce l'abbiamo fatta a fare tutta la collezione Giulia l'aveva chiesta questa collezione molto 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 i nostri genitori hanno deciso di comprarsela tutta per tutte e due appunto e ragazzi io sono troppo felice che abbiamo cioè non ho mai non sono mai riuscita a finire una collezione e per fortuna questa volta ce l'ho fatta vi mando un bacione enorme noi ci vediamo alla prossima iscrivetevi a instagram marghejuliacawaii in un basso official e su facebook marghejuliacawaii e ovviamente su youtube con marghejuliacawaii un bacione vi mandiamo un bacione infinito a voi a te siete soltanto a te mi dispiace a voi che ci volete bene ci seguite tutto quanto un bacione ciao